La gioia di ammirare l'atterraggio di questi paracadutisti e invece vedete dal fumogeno arancione che il vento è in calma piatta per cui dovrebbe consentire in modo facile, se il termine facile può essere un termine giusto, l'atterraggio qui in piazza Marconi di questi paracadutisti. Quindi un attimo di attesa sicuramente, ma un'attesa che sarà poi suffragata dalla gioia di vedere atterrare i paracadutisti qui a Notte, la prima fase, il vento sta posizionando qui. Ecco lì che stanno arrivando, ma mi lascio un giro al commento. Questo è Claudio Dolin, centrato in pieno, piazza Marconi. Un attimo di sospanza e anche lui, precisissimo, in centro. E adesso arriva l'ultimo paracadutista a ricordare che la bandiera nostra italiana, la nostra identità, si raffigura con questi straordinari bellissimi tre colori, il verde, il bianco e il rosso, nei cieli di Roma e Grazia. Questo è l'ultimo paracadutista che ha caricarato anche la gioia di ammirare questo spettacolo. Il figolo è apparato in piazza Marconi.